le squisite focaccine di patate veloci e gustose le focaccine di patate sono squisite e velocissime vi lasceranno a bocca aperta anzi piena il loro pregio principale è la facilità sono eccezionali perché potete farcirle farle di forma e grandezza diversa a seconda dell'occasione sono sicura che tutti avete delle patate a portata di mano vero allora al lavoro ecco come si preparano focaccine di patate ricetta vegetariana per quattro persone 500 grammi di patate 100 grammi di farina un uovo intero un cucchiaio di pecorino sardo stagionato due cucchiai di olio extravergine di oliva sale rosa dell'himalaia prima fate bollire le patate di tanto in tanto punzecchiatele con la forchetta fino a quando le sentirete morbide quindi ben cotte schiacciatele con lo schiacciapatate mettetele in una terrina e salatele poi aggiungete gli altri ingredienti mescolatele con l'uovo il pecorino e la farina mescolate bene fino a ottenere un bel impasto e create delle polpettine appiattitele leggermente così si formeranno delle focaccine scaldate un filo d'olio in padella e fate cuocere le focaccine fino a farle dorare eliminate l'olio in eccesso avvolgendole nella carta assorbente e adesso gustatevi le focaccine alle patate ancora calde potete mangiarle come snack o per accompagnare verdure o proteine magre proprietà degli ingredienti le patate sono energetiche adatte per chi soffre di diabete utili contro l'ipertensione il pecorino ricarica di energia è ricco di calcio migliora il sistema immunitario il sale imalaiano nelle giuste dosi è ricco di sodio minerali e da energia la farina è un carboidrato ad assorbimento rapido con pochi grassi l'olio di oliva extravergine è antiossidante protegge fegato cuore e arterie migliora le attività cognitive mangia consapevole e vivi meglio vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video i link ai miei libri e the book i motivi per cui divulgo la mia esperienza seguimi sul canale sui social clicca mi piace condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao